Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Economia, oggi lunedì 29 novembre iniziamo a parlare di logistica e infrastrutture, abbiamo ospite qui in studio Michele Gruppo, presidente di Verona Mercato, benvenuto Michele. Benvenuto, buonasera a tutti. Allora dicevamo c'è stato tra l'altro un anniversario importante, a inizio novembre Verona Mercato ha compiuto 18 anni, è diventata maggiorenne questa società per azioni e ha festeggiato anche con un convegno importante, qui vediamo alcune foto con il presidente di Italmercati e qui anche il tavolo dei relatori, a cui rappresenta anche il sindaco Federico Sbuarina, altri ospiti tra cui il direttore Paolo Merci, lei chiaramente come presidente e Massimo Pallottini che è il presidente appunto di Italmercati, dopo spiegheremo anche cos'è Italmercati. Un anniversario presidente festeggiato annunciando anche un piano triennale di investimenti molto importante. Sì, è un anniversario festeggiato 18 anni che è la data in cui di solito si diventa maggiorenni e quindi non abbiamo fatto il classico ventennio, trentennio eccetera, abbiamo scelto i 18 perché è la maggiore età, quindi maturi per il futuro, questo gioco di parole che abbiamo voluto fare è per ricordare che la frutta, la verdura matura e quando è matura è pronta per essere messa sul mercato. Noi a 18 anni di età viviamo una situazione particolarmente interessante dal punto di vista economico dei nostri bilanci, abbiamo di fatto finito di pagare gli impegni presi per costruire la struttura e siamo pronti a rilanciare con nuovi investimenti. Nuovi investimenti che andremo adesso un po' a descrivere, innanzitutto diamo un'occhiata a uno di questi investimenti, interessa una nuova infrastruttura, possiamo guardare anche la grafica, un'area di completamento, di cosa si tratta Presidente? Cos'è questa immagine, questo render? Beh, direi che questo è un sogno che si sta realizzando, nel centro agroalimentare rimane libera sostanzialmente un'area di circa 60 mila metri quadrati sulla quale si può infrastrutturare un immobile di circa 30 mila metri quadrati. L'idea che abbiamo, che vorremmo sviluppare è un'idea tendenzialmente rivolta verso alla logistica. Logistica perché? Perché Verona è in una posizione particolarmente strategica, siamo all'interno del quadrante Europa, abbiamo queste sinergie molto forti, abbiamo visto che gran parte dell'attività per il futuro si svilupperà nel potenziare la logistica e quindi stiamo immaginando una struttura che abbia questa destinazione. Una nuova struttura di circa 27 mila 500 metri quadrati, insomma una struttura davvero imponente. Guardando sempre un po' al futuro, un'altra progettualità di importanza cruciale è la realizzazione di nuove celle frigorifere, di nuove per lo stoccaggio, giusto, e il mantenimento delle merci. Vediamo qui proprio anche l'immagine mentre ce la descrive. Sì, ve la descrivo un po' sommariamente. L'idea delle celle frigorifere è dovuta al fatto che la frutta e la verdura se viene trattata a una temperatura controllata abbiamo la possibilità di allungargli la vita, cioè quando si stacca un frutto, faccio un esempio, dall'albero dal momento in cui si stacca lui inizia la sua maturazione distante dall'albero. Mantenere una temperatura costante, quindi la cosiddetta catena del freddo, fa sì che il tempo di maturazione si allunghi. Allungare il tempo vuol dire dare la possibilità ai nostri operatori di trattare per più tempo la marcia sul mercato e quindi gestire al meglio i loro interessi e cercare di portare la frutta e la verdura con più alta qualità sulle tavole degli italiani e anche degli europei, perché insomma avere una mercato, ricordiamoci, è una porta verso l'Europa. Assolutamente, dopo ne parleremo. Terzo punto all'ordine di quel giorno, era la realizzazione di tettoie fotovoltaiche e quindi attenzione alla sostenibilità e anche all'autonomia in qualche modo energetica. Certo, tutto si lega all'idea progettuale che abbiamo, la nuova infrastruttura che andremo a fare, nella quale pensiamo di mettere anche delle celle frigorifere, anche per esempio per gestire il vino bisogna mantenere una certa temperatura, quindi stoccarlo con temperature controllate. All'interno del mercato dove vogliamo mettere queste celle frigorifere per mantenere la temperatura, tutte queste celle hanno bisogno di energia, di energia elettrica e come andiamo a produrre l'energia elettrica? Sfruttando la nostra superficie, i nostri tetti e installando dei pannelli fotovoltaici che ci permettono di produrre da soli l'energia che poi andiamo a consumare per mantenere questa catena. Quindi cercare di essere virtuosi e fare molta attenzione anche all'ambiente. Assolutamente, qui vediamo appunto le immagini con la realizzazione di 626 posti autocoperti, contestuale realizzazione di impianto fotovoltaico, quindi un'opera sicuramente interessante. Dicevamo Presidente, intanto per realizzare anche tutto questo state guardando anche al PNRR, potreste anche attingere a quel tipo di risorse per sviluppare la vostra progettualità? Sì, noi alla presentazione, al diciottesimo, in questa festa, che per noi è stata una grande festa, abbiamo voluto mettere in evidenza anche la rete Italmercati. Siamo stati onorati chiaramente dalla presenza del sindaco di Verona che ci onora della sua presenza e ci stimola a proseguire negli investimenti e a diventare sempre più leader nel settore come Verona. Avevamo anche la presenza del Presidente Massimo Pallottini di Italmercati. Con questa rete di mercati nazionale, noi abbiamo avuto la possibilità di interloquire direttamente con il Ministero. Interloquire direttamente vuol dire essere attori protagonisti nelle richieste legittime che abbiamo fatto per essere inseriti nel PNRR e come Italmercati abbiamo chiesto quasi 250 milioni di euro da investire nelle nostre strutture per poter migliorare il servizio e la qualità di ciò che trattiamo. Guardiamo questa grafica Italmercati con una rete davvero fitta che va dal nord Italia al centro, con isole comprese, quasi tutto lo stivale è coperto da questi centri logistici, tra cui al punto numero 3, lo vediamo localizzato nell'area Veneto occidentale, abbiamo proprio Verona Mercato. Presidente, a Verona, Verona Mercato, ma anche un'altra realtà importante, il Consorzio Zai, sono due realtà che sono un'eccellenza assoluta, a volte rischiano di passare sempre un po' sotto traccia, ma sono fondamentali per lo sviluppo anche futuro della nostra città? Sì, io ringrazio, al diciottesimo era presente anche Matteo Gasparato, Presidente del Consorzio Zai e altri ospiti importanti, ma in particolare col Consorzio Zai, noi stiamo interagendo molto, abbiamo siglato un protocollo di intesa anche tra Italmercati e la UIR, che sono le due società che raggruppano i centri intermodali e i mercati ortofrutticoli, dove Matteo Gasparato è il Presidente della UIR e grazie all'attività di mediazione della Verona Mercato con il nostro Presidente nazionale siamo giunti a questo, secondo noi, importantissimo progetto di integrarci, di continuare a dialogare e di intercettare insieme le nostre esigenze e portarle a conoscenza degli organi di governo, quindi dei ministri competenti, per poter proprio migliorare il servizio. La logistica è un'attività sempre più importante, vediamo anche nell'e-commerce, la logistica è fondamentale. Noi veronesi siamo particolarmente fortunati perché viviamo in un ambiente che è proprio il crocevia di nord, sud, est e ovest di due autostrade importanti, ma anche della via ferrata, quindi anche l'intermodalità. Siamo circondati dall'acqua, quindi anche con i porti che ci velocemente arrivano e ricordo che la maggior parte delle merci, circa il 70% delle merci, passa per il Brennero, quindi Verona è un naturale crocevia. E noi dobbiamo essere bravi da veronesi a fare economia con questa opportunità. E a far conoscere queste realtà sempre di più anche ai veronesi stessi che possono essere orgogliosi davvero di due infrastrutture importanti a livello internazionale, non solo a livello nazionale. Presidente, chiuderei un po' su di lei, con un focus su di lei, perché lei è a capo di questa realtà da questa primavera, quindi come ha accolto questa nomina e soprattutto come la sta vivendo in questi mesi? Guardi, intanto devo ringraziare il sindaco Sboarina, che Federico ha voluto darmi fiducia, perché la mia nomina dipende dal comune di Verona, ha voluto secondo me dare un segnale di apertura anche verso la provincia, perché io arrivo da Isola della Scala, il mio paese di origine, al quale sono molto legato, ma è un paese della pianura veronese, quindi ecco che il territorio porta le sue competenze, le sue conoscenze anche alla città, quindi il sindaco secondo me ha dato proprio un segnale di apertura verso l'intero sistema Verona. Io cerco di svolgere con il massimo delle mie capacità, con l'impegno, con la presenza, con l'apertura verso anche il meccanismo Italia, quindi Italmercati, e ho spinto molto verso questa direzione che ci sta dando già i frutti. L'impegno è notevole, ma anche ricco di soddisfazioni. Assolutamente, anche perché, ripetiamo, è pronto il piano triennale 2022-2024, che sarà davvero importante anche in ottica PNRR, ripresa dalla pandemia, quindi davvero da affrontare con coraggio, ma anche con entusiasmo, perché le possibilità per fare grande Verona, anche attraverso Verona Mercato, ci sono tutte. Esattamente, intercettare i fondi del PNRR è un esercizio che stiamo facendo, che ci obbliga a progettare, a immaginare il futuro un po' più a lungo termine, cosa che nell'ultimo periodo, anche causa pandemia, siamo tutti abituati a vedere oggi a domani, e invece il dovere di un politico, di un amministratore è di guardare a lungo termine. Ripeto, io ho la fortuna di gestire un momento particolarmente importante per la nostra Verona Mercato, che ripeto è un'eccellenza unica, siamo invidiati da tutto il sistema Italia e siamo guardati come punto di riferimento. Noi vorremmo proprio essere innovativi, ecco il fotovoltaico, ecco la catena del freddo, ecco l'analisi, vi faccio qualche accenno di ciò che stiamo pensando, stiamo pensando a fare all'interno della Verona Mercato anche un punto di rilancio per il vino, per il nostro territorio, quindi molte piccole cantine non riescono ad accedere a una logistica integrata e noi stiamo pensando a quello, mettiamo a disposizione questo tipo di servizi, stiamo pensando anche a integrare con trasporti elettrici per l'ultimo miglio, quindi stiamo studiando molto per il futuro. Complimenti allora Presidente, grazie per questo aggiornamento e per essere stato con noi questa sera. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, in bocca al lupo a tutti per il futuro perché io sono ottimista di natura, sono convinto che la pandemia ormai sia quasi alle spalle e dobbiamo proprio progettare il nostro futuro. Grazie anche per questa dose di ottimismo. Noi lasciamo spazio adesso alla musica e torniamo tra poco.